Che cos'è la bellezza? La bellezza è negli occhi di chi osserva. È fatta di dettagli, di particolari in grado di risvegliare i nostri sensi, le nostre emozioni. FermaPay. La vera bellezza è rappresentata dall'immenso e straordinario patrimonio storico-architettonico che ci circonda. Siamo nati in Italia, il paese dell'arte, della storia, delle meraviglie architettoniche che ti sorprendono ovunque tu vada. Da oltre 80 anni questa bellezza ha ispirato ogni nostro passo, rendendoci ogni giorno sempre più esperti e competenti. E in Italia siamo cresciuti, fino ad allargare i nostri orizzonti a tutto il mondo, perché la bellezza è universale, il patrimonio di tutti. Da questa profonda e autentica passione, grazie al supporto del nostro laboratorio di ricerca e sviluppo, unico nel suo genere, è nata una gamma completa di prodotti, pensati per il risanamento, il consolidamento e il restauro conservativo di immobili di pregio storico-architettonico. Un team di professionisti appassionati affianca ogni giorno imprese, progettisti, restauratori che devono affrontare con dedizione e competenza tutte le delicate attività del restauro conservativo. Per riservare e proteggere questo immenso patrimonio è possibile solo attraverso l'utilizzo di prodotti eco-compatibili, che sappiano garantire la tutela sia degli ambienti trattati che degli attori coinvolti. Una scelta vincente, che guarda verso un futuro più sostenibile. Passione, scienza e competenza. Ecco come MAPEI ogni giorno opera affinché la bellezza sia davvero senza tempo e continui a risplendere anche per le generazioni future. MAPEI, da oltre 80 anni, questa bellezza ha ispirato ogni nostro passo.